I carrelli non ci sono ancora ma tutto è pronto, solo gli ultimi ritocchi prima dell'inaugurazione di domani del nuovo supermercato S-Lunga della Zai a Verona. È il terzo supermercato in città, il primo per grandezza che sorge in Viale del Lavoro, la stessa strada che ospita la fiera e il centro commerciale Adigeo. Altro appuntamento domani proprio ad Adigeo dove sarà inaugurato il tanto atteso negozio irlandese Primark. Non solo il supermercato, invece S-Lunga, in altre città come a Milano la catena è anche centro d'aggregazione per single magari. Lo scorso gennaio un post su Facebook invitava tutti a trovare la propria anima gemella all'interno del supermercato. Una leggenda metropolitana narra infatti che l'S-Lunga di via Papiniano a Milano sia uno dei luoghi in città dove è più facile rimorchiare. Leggende e romanticismo a parte, a Verona si torna a parlare di viabilità. La questione del traffico in questa zona è tema caldo da tempo e le possibili soluzioni e interventi hanno fatto parte del programma politico di molti alle amministrative del mese scorso. Nell'ambito dei lavori d'apertura, S-Lunga ha riqualificato l'area con una rotatoria proprio tra Viale dell'Industria e Viale del Lavoro. Una via che sarà centro nevralgico anche di lavoro appunto. Con S-Lunga altri 144 addetti hanno trovato un posto di lavoro, assunzioni che si sommano alle oltre mille persone che sono impegnate da qualche mese ad Adigeo.